Salve, sono Giuseppina Turano, docente di lingua e letteratura albanese presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia. L'unità didattica che sto per presentarvi, dal titolo Lingue e Culture del Mediterraneo e dei Balcani, un'introduzione, è frutto della collaborazione fra diversi docenti di diverse discipline dell'Ateneo Veneziano e non solo. Questa attività didattica, pensata in una prospettiva multilinguistica, multiculturale, multidisciplinare, si prefigge di offrire un semplice primo approccio ad alcune delle lingue, delle culture e delle letterature che si studiano a Ca' Foscari. Partendo dalla Catalogna si arriva ai Balcani, attraverso la Romania, la Serbia, la Croazia, la Bulgaria, l'Albania e la Grecia, alla scoperta delle loro lingue, delle loro culture e delle loro società. Ciascun Paese sarà considerato nell'unicità della sua storia, della sua tradizione, della sua identità. Diversi perché di origine diversa, ma le tendenze culturali dominanti in ciascuno di essi sono di grande importanza per l'intero contesto europeo ed occidentale. Nell'ordine della presentazione, all'interno del corso, saranno sviluppate sei diverse unità didattiche dedicate rispettivamente alla lingua e alla cultura catalana, a quella romena, a quella neogreca, a quella albanese, a quella bulgara e per finire a quella serva e croata. Si tratta di Paesi che, dal punto di vista della loro origine, non appartengono ad uno stesso ceppo. Neolatine sono il catalano ed il romeno, slave sono il bulgaro, il serbo ed il croato. Di origine illirica, o forse trace, è l'albanese, non ci sono dati certi in merito, mentre il neogreco è la continuazione dell'antica lingua greca. La prima unità didattica sarà dedicata alla lingua e alla cultura catalana. Lascio la parola ai colleghi. Buon lavoro a tutti.